Gentili telespettatori, buona giornata. Il report deride Salvini, anche altri programmi di sinistra hanno deriso Salvini mostrando il vice premier che in diverse interviste parlava di numeri diversi sull'occupazione che verrà creata per il ponte sullo stretto. Deridono Salvini, deridono i numeri facendo credere che Salvini non sappia quello che sta dicendo e tutto per discreditare il ponte facendolo passare come una porcheria senza senso sotto tutti gli aspetti che non è vero, che porta poi tutto questo lavoro. E così a report domenica scorsa deridevano Salvini che una volta parlava di 120.000 persone a questo ponte che lavoreranno, poi parlava di 90.000, di 70.000, di 40.000, di 30.000, quindi facevano vedere tutti questi spezzoni di Salvini che in varie interviste parlava di numeri diversi sull'occupazione che porterà il ponte. e invece aveva ragione Salvini. Salvini va criticato quando c'è bisogno di criticarlo, ma ingiustamente è solo un esercizio molto basso di propaganda politica. caro Rannucci, Salvini ha dato sì dei numeri diversi, ma si riferivano a diverse cose. Cosa vuol dire? Allora, vi dico quello che scrive il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera dice circa 120.000 lavoratori in sette anni. 120.000. Come aveva detto Salvini, 120.000 lavoratori. La prima volta aveva parlato di 120.000 lavoratori. Eh, però le volte dopo aveva detto 80.000, 40.000. Allora, qui c'è la spiegazione e adesso ve la racconto. Secondo le stime riportate dalla società stretto di Messina, in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all'anno per raggiungere un picco di 7.000 lavoratori nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere, sette anni, si avrà dunque un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 unità lavorative per anno. Per anno. Attenzione, eh? 30.000 unità lavorative per anno. Cui aggiungere l'impatto occupazionale indiretto e l'indotto stimato in 90.000 unità per un totale di 120.000 unità lavorative generate dall'opera. E quanto sottolinea la società stretto di Messina in una nota che riferisce di aver approvato la relazione del progettista e del progetto di aggiornamento del ponte sullo stretto. In un'Italia che ha creato già 600.000 posti di lavoro qui se ne andranno a creare nel settore costruzioni e indotto 120.000. Voi sapete che cosa vuol dire occupazionale indiretto e indotto? Significa che il personale diretto sono quei 4-7.000 persone che lavoreranno tutti i giorni al ponte. Quelli proprio direttamente assunti che costruiscono il ponte, costruiranno il ponte. Qual è il lavoro indiretto e il lavoro dell'indotto? Sono tutto quello che gira intorno. Allora, vi faccio un esempio. se il bar di fronte al cantiere avrà un boom di persone che faranno la colazione la mattina tra ingegneri, progettisti, quel bar assumerà magari 10 camerieri perché avranno una ressa, 10 posti di lavoro in più, indotto. Poi, ad esempio, quelli che lavoreranno lì, ingegneri, progettisti, supervisori, collaudatori, saranno in albergo, gli alberghi avranno il tutto esaurito, gli alberghi lavoreranno di più, assumeranno più persone, poi queste persone andranno a comprarsi il gelato e quindi la gelateria lavorerà di più, magari assumerà una persona in più. Vi sto facendo degli esempi banali e quelli che arriveranno giù per lavoro faranno benzina, i prodotti che verranno ordinati, spediti, quindi trasportatori, gli spedizionieri, i costi di spedizione, l'indotto. Cioè, oggi c'è una situazione economica lì, quando ci saranno tutte quelle persone che lavoreranno per fare quest'opera, non saranno solo i lavori diretti, ma ci saranno anche un indotto lavori indiretti, quindi quelli che non saranno direttamente anche dipendenti della società stretto di Messina, ma saranno dipendenti di un'azienda che viene chiamata per pulire, che ne so, pulire quello che è successo, dovranno togliere delle cose, quindi chiameranno magari un'impresa locale che sarà un lavoro indiretto, magari verrà contrattata un'altra azienda per fare un'altra cosa che non era prevista sul momento, quindi viene chiamata un'azienda che è lì di Sesto San Giovanni, viene assunta con un subappalto o comunque con un contratto di persone esterne, non dipendenti dirette ma indiretti, quindi quello che si genererà non sono solo quei 30.000 lavoratori diretti annui, Salvini diceva non meno di 30-40.000 persone e poi parlava di 120.000, quindi quando Salvini parlava di 120.000 è la somma di lavoro diretto più lavoro indiretto più come si chiama, più indotto, mentre quando Salvini parla di 30-40.000 sono le persone che annualmente saranno direttamente dei lavoratori dipendenti della società del ponte, chiaro? Quindi capisco, cioè capisco tra virgolette, che giornali, programmi di sinistra si divertano ad eridere Salvini facendo vedere che ha dato sempre numeri diversi, intanto sono previsioni, possiamo dire lavoreranno dai alle 30-40.000 persone, hai detto 30, hai detto 40, ma non lo sai neanche tu, sono previsioni perché questa azienda, quella del ponte, assumerà le persone sul momento vedendo qual è esattamente il lavoro, se servono più persone meno, potrebbero essere 28.000, potrebbero essere 33.000 all'anno, dipenderà da dei fattori del momento, oggi non magari preventivabili. Grazie a tutti e arrivederci a presto.